Sono 30.000 gli impianti termici nel territorio comunale di Fanno che dovranno essere adeguati alle nuove normative. Si tratta di un servizio promosso dall'assessorato all'ecologia urbana e dall'Aset Holding che prenderà avvio ad aprile a seguito dell'approvazione di una legge regionale. Queste norme obbligano tutti i possessori di un impianto termico e quindi i privati, gli amministratori di condominio e i titolari di aziende o di esercizi commerciali a far eseguire dei controlli di efficienza energetica. I cittadini entro il 30 giugno del 2017 dovranno autocertificare l'efficienza energetica della propria caldaia e del proprio impianto termico e lo faranno attraverso il proprio manutentore di fiducia il quale farà il controllo dell'efficienza energetica dell'impianto e attesterà questa autocertificazione apponendo un segno identificativo sul rapporto e trasmettendolo ad Asset Holding. A questo punto il cittadino potrà ricevere un bollettino verde al prezzo di 14 euro ma allo stesso tempo dovrà sostenere anche il costo del manutentore ed eventuali interventi effettuati alla caldaia. D'altra parte invece Asset Holding effettuerà un censimento e inizieranno le ispezioni per individuare i trasgressori che rischieranno una multa dai 500 ai 3.000 euro. Oltre alla sanzione chi sarà in adempiente dovrà accollarsi anche la spesa di 80 euro per l'ispezione eseguita. Il controllo energetico degli impianti porta al cittadino un risparmio legato alla materia prima e quindi al gas e poi appunto anche il controllo degli agenti atmosferici e quindi degli inquinanti dell'aria. In più controllando gli impianti termici c'è un controllo indiretto anche sulla sicurezza degli stessi e quindi un controllo della sicurezza dei diversi condomini, dei diversi appartamenti. Per avere ulteriori informazioni è possibile visitare il sito asetholding.it nella sezione dedicata agli impianti termici oppure si può contattare l'azienda tramite mail o al numero 0721818111. Siamo tra i primi comuni delle Marche che riescono a mettere in campo un percorso importante che coinvolgerà tutta la città, tutte le cittadine e tutti i cittadini per garantire non solo la sicurezza degli impianti termici ma anche il risparmio energetico e quindi anche una ricaduta positiva per l'ambiente della nostra città. Grazie a tutti.